Buongiorno a tutti dalla postazione Radio Number One di Vinitaly 2023. Mi trovo in compagnia di Edoardo Montresor dell'omonima azienda. Benvenuto Edoardo. Grazie mille, grazie mille. Come sta andando questo Vinitaly prossimo alla conclusione? È un boom, è un boom. Abbiamo avuto un mucchio di presenze, tantissimi ristoratori italiani che l'anno scorso erano un po' più scarsi. Una presenza incredibile di operatori stranieri. Non ce l'aspettavamo perché qualche settimana fa c'è stata anche la Provine. Invece sembra che il Vinitaly rimanga sempre un punto importante per il vino italiano. E a livello di tendenze, di gusti rispetto ai vostri prodotti hai notato qualche indicazione particolare che vuoi segnalare? C'è un ritorno alla tipicità. Il consumatore richiede la tipicità del prodotto. Quindi prodotti con basso contenuto zuccherino, molto legati al territorio. Noi, ovviamente azienda della Valpolicella, cerchiamo di lavorare molto sulle famose tre uve, Corvina, Rondinella e Molinara. Quindi acidità, sensazioni erbose, concentrazioni importanti con però sempre abbinate vini che vengono abbinati al cibo. Certo, quindi un modo per raccontare attraverso l'enogastronomia il territorio. È ancora la cifra stilistica vincente nella promozione del vino. Certo, ci crediamo tantissimo. Infatti l'anno scorso, a parte per festeggiare i 130 anni dell'azienda, abbiamo aperto un museo a dicembre. Un museo un po' strano. Normalmente i musei dell'azienda sono autocelebrativi. Noi abbiamo voluto celebrare la Valpolicella e le persone che hanno costruito la Valpolicella negli ultimi anni. Quindi si parla della storia, chiaramente un po' dell'azienda, ma soprattutto della Valpolicella. Si mostrano quali erano gli strumenti che si usavano sia in agricoltura sia all'interno delle cantine. E lì è una cosa molto carina perché abbiamo trovato un vecchio documento di un vecchio fattore della mia famiglia, della metà dell'Ottocento, che si chiamava Isidoro, che entrando nella sala della storia dei macchinari, veniamo accolti da questa foto di questo signore in bianco e nero, chiaramente, e sarà lui che ci guiderà, guida le persone a spiegare cos'erano i torcolotti, non vi dirò cosa sono perché dovete venire al museo a vedere, è lì vi verrà svelato il trucco. E poi si passa ovviamente a parlare della Valpolicella, della zonazione, di tutte queste valli che compongono questo territorio meraviglioso. e alla fine del museo c'è una parte che era stata fatta soprattutto per i ragazzi che non possono assaggiare il vino. Quindi un'analisi olfattiva del range aromatico tipico dei nostri vini, Amarone, Ripasso e Valpolicella, invece abbiamo scoperto che è diventato il gioco principale degli adulti, che ci consumano l'essenza praticamente ogni volta che passano. Quindi questo percorso multisensoriale che parte appunto dall'olfatto e dalla narrazione delle vostre radici, che sono la parte più importante. È fondamentale, è fondamentale per noi. Progetti futuri, oltre naturalmente alla valorizzazione del museo? Progetti futuri, abbiamo iniziato due anni fa con un'acquisizione nella Valpolicella classica di una tenuta storica che si chiama tenuta Pule, Pule per la verità, e quindi qui c'è una commissione anche con noi. Montresorio è un cognome francese, la famiglia arriva dalla Francia nel XVII secolo, questa tenuta era di proprietà di nobili francesi, dove abbiamo impostato quello che è un'altra tendenza del mercato oggi, il prodotto biologico. È un'azienda di 44 ettari evitati, quindi Corvina, Rondinella e Morinara, uve per Amarone, Ripasso e Valpolicella, completamente organici. Wow, complimenti, complimenti per i vostri progetti. Grazie mille. Ora ci sposteremo in area degustazione per lasciar parlare il calice. Eh certo, so, la bocca un po' secca. Grazie Edoardo per avermi raggiunta nell'angolo degustazione di Radio Number One. Guarda, non vedevo l'ora di farti assaggiare questo prodotto che racchiude un pochettino una novità, ma una parte storica dell'azienda, è l'Amarone Satinato Riserva. Questa è la bottiglia storica della famiglia, nasce nel 1921, e il bisdonio iniziò a satinarla non per un motivo marketing, ma per un motivo tecnico. Quelle anni lì cominciavamo a esportare nel mercato americano, il problema più grosso era l'ossidazione dovuta al sole durante il trasporto, perché il vino non era un prodotto nobile, quindi non veniva mai stoccato all'interno della nave, e il sole ovviamente, con i filtri, le tecnologie di allora, metà delle bottiglie saltavano i tappi, si ossidavano, e lui iniziò con una semplice spugna d'acciaio e un po' di acido a grattare le bottiglie fuori, e ovviamente la satinatura era una conseguenza di questo processo. Da allora la bottiglia è rimasta uguale. Perché novità? Perché Riserva nasce l'anno scorso, è un 2012, nasce appunto per festeggiare i 130 anni di Montresor, quindi è sostanzialmente lo stesso prodotto iconico nostro, però con un invecchiamento che facciamo noi non il consumatore. Sì, è un prodotto che è uno stile, è il nostro stile, quindi complessità, ma sempre legato al territorio, quindi rimane sempre una nota molto minerale verso la fine, anche perché il nostro concetto, la filosofia principale di Montresor è, me lo diceva sempre mio nonno, che il punto di forza del vino italiano è che il vino italiano nasce non per creare l'eccellenza, adesso non interpretate male, ma per essere abbinato al cibo. Ed è la forza che abbiamo in Italia, quante tipologie di vini abbiamo in Italia, tutti nascono ovviamente dal cibo tipico del territorio, e quindi questo amarone, che normalmente spaventa l'amarone, perché dice è un vino opulento, un vino che probabilmente è da meditazione, no, abbiamo cercato di portare avanti questa filosofia cercando di impostare l'amarone come un vino gastronomico che si può bere tranquillamente mangiandosi un buon piatto di pasta, un brasato, è venuto il brasato perché l'avevo mangiato ieri sera, o il bollito, tipico piatto di Verona. Quindi come dicevamo, a maggior ragione, il modo di raccontare il territorio passa attraverso l'enogastronomia tipica di queste zone. Ci dedichiamo un Cine da Vinitaly. Alla prossima!